Patrizia Stasi, Presidente Conf Cooperative della Campania, come si inserisce nel progetto Capovolti? Noi siamo partner fin dall'inizio, fin dal momento della progettazione, perché al di là appunto dell'inserimento lavorativo ci piaceva molto questa idea di creare intorno ai ragazzi una comunità, una comunità solidale, una comunità che li agevolasse anche nel lavoro futuro e nella costituzione di una cooperativa sociale che quindi desse loro anche una prospettiva di lavoro e non solo quindi l'occupazione, l'apprendimento e l'apprendistato ma anche la possibilità di un lavoro vero, di un lavoro che produce rendito e di un lavoro che fa crescere l'intera comunità intorno a loro. Il passo successivo dopo la realizzazione della fatteria sociale è proprio la creazione di una cooperativa e quindi poi entreranno a far parte della vostra associazione anche loro. Sicuramente sì perché stiamo seguendo noi tutto il percorso soprattutto curando l'aria agricola con la nostra federazione agricola Fedagri e quindi la costituzione della cooperativa su cui stiamo lavorando sarà sicuramente un altro dei nostri gioielli. Ne abbiamo di già ma è un gioiello che si aggiunge ad una corona. Sì dicevamo proprio questo che è un progetto convincente ed è una delle realtà realizzate nello spazio di un anno con grandi sacrifici, grandi impegni da parte di tutti quindi voglio dire specialmente per il nostro territorio è un buon punto di riferimento. Certamente ma perché valorizza il territorio innanzitutto, il territorio inteso proprio come patrimonio agricolo valorizzando dei terreni che erano stati un po' abbandonati, delle realtà e soprattutto facendo confluire all'interno di questo territorio anche cooperazioni e associazioni che non vivono qui, che attraverso capovolti vengono a conoscere sia una possibilità reale di costruire una fattoria sociale, sia un territorio che spesso è sconosciuto e poco valorizzato. Quindi ci sono molti vantaggi all'interno di questo progetto, oltre ovviamente al punto principale che è dare ai ragazzi con difficoltà psichiatriche una possibilità di una vita vissuta con dignità attraverso il lavoro. In chiusura le chiedevo questo, essere impresa sociale al sud quindi è possibile? Essere impresa sociale al sud è possibilissimo, lei si immagini che con cooperative regionali hanno 948 cooperative che fanno produzioni sia partendo dalla pesca, all'agricoltura, al sociale e sono tutte cooperative che mettono al centro la legalità, la trasparenza ma anche l'occupazione sana quindi è possibilissimo, anche se si pensa che in realtà il valore fondamentale della cooperazione è la relazione tra le persone e questo è un valore naturale per noi del sud, nel senso che noi mettiamo al centro prima le persone e poi le produzioni e quindi è molto vera la cooperazione del sud, è molto bella. Grazie a tutti.